Vedere anche questi sindaci, ma anche quelli del Mediterraneo, tantissimi giovani, è già un motivo di speranza, perché diceva la Pira che i giovani sono come le rondini, vanno verso la primavera. Insomma, un giovane che è un giovane sano, che è cresciuto con dei principi buoni, ha delle aspirazioni profonde, belle, se nessuno gliele guasta. E quindi noi abbiamo anche questa fiducia, indipendentemente dalla loro religione. Poi per noi siamo tutti cugini, diceva la Pira, perché la religione ebraica, la religione cristiana, la religione musulmana, nasce dal seno di Abramo. Abramo porta in sé stesso, colui che diceva la prima promessa da Dio, questi tre figli. E allora anche fra le religioni c'è una possibilità di dialogo.